Buongiorno, bentrovati. Martedì 10 maggio 2016, il nostro consueto appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, che apriamo con il Santo del Giorno. Si tratta di San Cataldo, nome comune diffuso soprattutto nel sud Italia ed in Puglia, ed in particolare nella città di Taranto, di cui è patrono. Eppure Cataldo non è un santo locale, ma un santo irlandese venerato a Taranto, dove si trova la sua tomba, in una ricchissima e bella cappella del Duomo, detta il Capellone. Sarebbe approdato sulla piana terra pugliese, nella rada che si apre sul Lido Adriatico, presso la città di Lecce, e che da allora si intitola perciò San Cataldo, ed è oggi celebre località balneare. I Tarantini e anche i Leccesi, orgogliosi sia del loro santo, avrebbero desiderato considerarlo secondo vescovo della loro città, se a questo desiderio non si fosse opposta una croce d'oro ritrovata nella tomba del santo, nell'anno 1094, durante la ricostruzione della chiesa distrutta dai Saraceni. Si tratta di una di quelle croci, dette benedizionali, che venivano infisse ad un bastone impugnate anticamente dai vescovi, con la sinistra, mentre con la mano destra benedicevano i fedeli. Sulla croce ritrovata nella tomba di Taranto era scritto Cataldo, vescovo di Racao. Da un attento esame dell'incisione, gli studiosi hanno potuto stabilire che la scritta risale al VII secolo. Dopo aver retto santamente il vescovato, Cataldo si sarebbe imbarcato verso il 666 per un viaggio in terra santa, all'andata o al ritorno, approdato o naufragato sulla costa salentina. Si sarebbe recato a Taranto, dove i cittadini lo vollero porre sulla cattedra. Vescovile, vacante, morto nel 685, venne sepolto sotto la cattedrale, dove il suo corpo fu rinvenuto e chiaramente identificato. Come abbiamo detto, nel 1094 della sua santità, fecero fede innumerevoli miracoli che diffusero prima in Puglia e poi in tutta Italia la devozione per il vescovo irlandese, al cui nome si intitolarono Cappelle e Chiese, località e paesi della costa del mare. Dal crinale dei monti, insieme alla sua fama, al suo culto e al suo nome, si diffusero anche i proverbi sul suo conto. Uno di questi, legato alla sua festa celebrata nel mese di maggio, dice quando il giorno di San Cataldo passa il freddo e viene il caldo. Dunque, San Cataldo viene ricordato oggi dalla Chiesa Cattolica. Nella giornata del 10 maggio, noi apriamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine del centro. Partiamo dalla prima pagina del centro, edizione di Pescara, per vedere insieme i titoli che sono affrontati. In primo piano si parla di sanità, in questo caso l'Asle nega il farmaco salvavita malata di cancro in Curacchieti, abita nel Pescarese e non ne ha diritto. Questo è il titolo principale. Poi la fotonotizia che riguarda lo sport, il Pescara e soprattutto Mandragora. L'Orlando Mandragora, che giocatore biancazzurro infortunatosi nella gara di Chiavari, ha chiuso anticipatamente la stagione, ma ieri non ha voluto saltare l'appuntamento che aveva già fissato, che era stato già fissato nelle settimane precedenti, per un incontro all'Istituto Industriale Volta di Pescara. Vedete nella foto Mandragora, mentre firma autografi agli studenti, ha detto io da Scampia alla Serie A, cacciatore del Pescara, ma acquistato dalla Juventus. Dunque bisogna dire che questo giocatore è destinato davvero ad una carriera sicuramente importante, acquistato dalla Juventus, titolare della Nazionale Under 21, oggi giocatore del Pescara, purtroppo infortunato, non potrà partecipare ai play-off con la formazione biancazzurra. Poi le altre notizie, sempre Pescara, città bloccata dai cantieri, traffico in tilt in molte zone, cittadini esasperati. Poi una notizia che arriva da Montesilvano, è scomparso a 71 anni Carbani, albergatore e politico, molto stimato in città. E poi le reliquie di Papa Wojtila, di San Papa Wojtila, alla Basilica dei Colli, da domani a domenica. Dunque ci sarà questo periodo importante, ci saranno questi giorni a disposizione per tutti i fedeli, proprio per vedere da vicino le reliquie del Papa diventato santo. Allora lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara, andiamo a vedere insieme. Ora la prima pagina, edizione di Chieti, Lanciano Vasto, poi come di Conseto vedremo anche le altre prime pagine delle altre edizioni. Allora siamo alla prima pagina del centro, edizione di Chieti, il Tarra del Vecchio, lauree valide. Chieti, ma il direttore generale va avanti, oggi in Ateneo chiederà di annullare 411 diplomi. Dunque si parla della querelle in corso all'università, e poi la fotonotizia, sempre di apertura, consueta nelle prime pagine del quotidiano del centro. In questo caso si parla di un incidente stradale presso la Fondo Valle Trigno, tamponamento a catena per un cinghiale, illesi, fortunatamente, due bambini. E poi, nelle cronache, a Lanciano, cambio al vertice della Sasi, basterebbe presidente. E dunque, e poi lo sport, sport violento, tifoso senza stadio per cinque anni. Un daspo inflitto ad un tifoso per i fatti accaduti dopo la gara tra Bastese e San Salvo. E poi a Chieti, addio a Dimeo, mago della pasticceria, domani si terranno i funerali a Chieti. E poi sempre a Chieti, si parla della Tales, al via l'operazione di salvataggio, sbloccata l'offerta per la fabbrica occupata. Lasciamo allora la prima pagina dell'edizione di Chieti del centro, andiamo a vedere insieme la prima pagina dell'edizione di Teramo. Poi chiuderemo con quella dell'Aquila, Avezzano e Sulmona. Allora, vediamo il titolo principale, si parla della Teramo Ambiente. Team, il presidente, rischia il posto, questo è il titolo principale. Il sindaco Brucchi svela i criteri del rimpasto, non riguarderà solo gli assessori. Dunque, questo è il titolo che apre l'edizione di Teramo del centro. E poi le cronache. Samira, ho dovuto uccidere le mie figlie, ha aperto il processo nei confronti della donna accusata di aver ucciso i suoi due figli. Poi a Giulia Nova, sventata la truffa del falso avvocato. Poi si parla della questione della vicenda di Teleponte. Teleponte contestati 213 mila euro di affitti. E questo è sempre in cronaca di Teramo. Vediamo anche un'altra notizia. Gas evacuata. La scuola colonnella Ruspa rompe un tubo e scatta l'allarme. Poi vedete la fotonotizia. Avevamo visto questa notizia triste sul giornale di ieri perché è scomparso di Giannatale l'addio al preside dell'Istituto Milli. Grande folla ieri nel corso dei funerali. Dunque, dell'ultimo saluto per il professor Giovanni di Giannatale. E chiudiamo con l'edizione dell'Aquila, del quotidiano Il Centro, dell'Aquila Avezzano e Sulmona. In questo caso si parla nel titolo principale di post terremoto. Nell'appalto è compresa la figlia, cantieri post sisma per lei in carico da 264 mila euro. Ingegnere indagato. E poi paganica la fotonotizia. Renzo e Annarita, due cuori uniti dagli alpini, si sono conosciuti nella donata del 2015. Dunque questa bella storia riportata oggi dal quotidiano Il Centro. E poi le cronache verso il voto a Sulmona, candidata minacciata, veleni, nella città ovidiana. Poi all'Aquila, uccisa da un infarto al centro commerciale, una donna di 61 anni. E' stata colpita da questo malore, pronti, mediati soccorsi, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Poi Avezzano, il McDonald si farà lavori entro l'estate. Poi in Marsica, a Trasacco, madre ferma il pusher, spacciava droga alla figlia di 14 anni. Allora, abbiamo visto le prime pagine del quotidiano Il Centro, le pagine delle quattro edizioni. Allora, noi adesso andiamo a vedere, grazie al sito del Ministero degli Interni, i titoli e le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola partiamo dal Messaggero di Roma. Ecco qui la prima pagina, il titolo d'apertura riguarda le banche. Banche, i rischi erano chiari, lo dice il presidente della Consob. Gli investitori degli istituti falliti sapevano delle possibilità di perdere tutto. Dunque si parla ancora di questa vicenda e ci sono ancora molte polemiche. Poi i migranti lascia il premier austriaco, slitta l'accordo sugli aiuti ad Atene. E poi riforme. L'ite nel Partito Democratico, la Boschi, chi dice no è come Casa Pound. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare molti nel Partito Democratico, le dichiarazioni del Ministro Maria Elena Boschi. Andiamo avanti, siamo al quotidiano La Repubblica, referendum, caos, Partito Democratico. Boschi, chi vota no fa come Casa Pound. Dunque anche qui ritroviamo, ma un po' su tutti i giornali, sulle prime pagine, queste dichiarazioni del Ministro Boschi. Leggiamo anche l'approfondimento. La minoranza attacca, pensate a Verdini e alle indagini. Renzi, prima la consultazione, poi congresso anticipato. Si gioca molto il premier Renzi proprio nel referendum che ci sarà in autunno. E poi le notizie che arrivano dall'Austria. L'Austria va a destra, via il cancelliere. Cameron con la Brexit, rischio guerra. E in Austria c'è questa crisi di governo con la possibilità per la destra di salire dunque al potere, di prendere in mano proprio il governo dopo le dimissioni del cancelliere. Poi c'è un'intervista a Roberto Saviano su Repubblica. Gomorra dieci anni dopo, così la mia vita è cambiata. Andiamo avanti, siamo al Corriere della Sera. Si parla di banche, anche qui in apertura. Così Etruria truffò i clienti. L'inchiesta, secondo l'accusa, ci fu una cabina di regia per collocare le obbligazioni subordinate. IPM, l'ordine di dare bond al rischio anche ai piccoli. Vegas difende la Consob, presidente proprio della Consob. E poi in alto lo scontro nel Partito Democratico. Vedete, Renzi anticipa il congresso, Boschi alla sinistra, siete come Casa Pound. E poi c'è questo articolo importante di Guido Santevecchi, che ha avuto la possibilità di visitare la Corea del Nord, della capitale Pyongyang, il mio incontro ravvicinato con lui, il leader, Kim Jong-un, che vedete nella foto. E dunque si parla proprio di questo incontro avvenuto in Corea del Nord, l'unico paese, forse il paese più difficile da decifrare nel panorama internazionale. Siamo al quotidiano, il tempo di Roma. I romani chiudono, gli immigrati aprono. Questo è il titolo di apertura della prima pagina. Boom di negozi gestiti da stranieri che pagano l'IVA solo al 4%. Record di Bangla Market. Crescono le attività cinesi e gli egiziani. Si prendono le pizzerie. E poi in alto due notizie. La prima, papà ucciso da Pribi, che mi candido con la Meloni, fa discutere l'aspirante consigliere di Fratelli d'Italia. E poi la beffa nel quartiere della candidata sindaco. Giorgia senza Garbatella, bocciata la sua lista. Giorgia Meloni, candidata proprio a Roma con Fratelli d'Italia per le prossime amministrative. E poi vediamo ancora qualche titolo. Centro pagina, comizio anti-Renzi del giudice, la nostra patria in pericolo. Maddalena, presidente merito della consulta. Lo sfogo dal palco contro le riforme del Premier. L'ultima notizia a proposito di Renzi. Referendum e poi nel PD resa dei conti. Matteo anticipa il congresso. E siamo al fatto quotidiano. Il titolo di apertura riguarda la giustizia. Le polemiche all'interno della magistratura italiana imbavagliano pure da Vigo. Grandi manovre. Ieri vertice Mattarella-Legnini. Oggi incontro con la NM. Questo è il titolo principale. Nel mirino non solo i giudici del no, ma anche il capo del sindacato togato. Dunque, questo è il titolo del fatto quotidiano che affronta sempre in maniera abbastanza, come dire, originale queste tematiche con questi titoli che ovviamente in questo caso parlano proprio delle polemiche che ormai durano da diversi giorni all'interno della NM. Poi vedete ancora qualche titolo, uno in particolare, Turchia, ecco l'articolo proibito, costato la condanna al cronista, perché in Turchia un cronista, per via di un articolo che criticava il governo, è stato condannato, è stato sanzionato. E poi il giornale Scandolo Etruria in banca un ufficio per truffare i clienti. La finanza trova le prove. I vertici avevano ordinato di piazzare i bond tossici. Vegas, presidente della Consob, regole più chiare per investire allo sportello. E poi vedete questa notizia un po' particolare, la statua di Hitler in ginocchio, venduta per 17 milioni di euro. Andiamo avanti, siamo al quotidiano libero, si parla di lavoro nel titolo di prima pagina. Jobax, 100 mila posti falsi, la CGL buttati, 6 miliardi denunce all'Inps, 60 mila aziende hanno dichiarato assunzioni fasulle per godere degli sgravi previsti. E poi vedete a centro pagina c'è questa vignetta, Renzi già in retromarcia sulla questione morale. Alla Boschi scappa la frizione, chi vuol votare no alle riforme è un fascista, dice il ministro. E queste dichiarazioni hanno, come si suol dire, scatenato molte polemiche. E siamo al quotidiano avvenire, quotidiano della conferenza episcopale italiana. Un'Europa fragile, Cameron, Londra fuori dall'Unione Europea, rischi di guerre. E in Austria via il cancelliere, sfidato dai nazionalisti. E poi c'è un'intervista al presidente, al ministro degli interni, Alfano, che dice disarmiamo le mafie dell'Azzardo. Questo è uno dei titoli di avvenire. Siamo al manifesto, il titolo principale, incubo europeo. Atene torna nel mirino di Bruxelles, Tsipras ottiene per un soffio il voto del Parlamento su 5 miliardi di taglie. E poi, vedete, anche qui si parla delle vicende della magistratura italiana, delle polemiche degli ultimi giorni. Niente veti sul referendum. ANM al confronto con il CSM, dunque l'Associazione Nazionale Magistrati, al confronto con il Consiglio Superiore della Magistratura. Ricordiamo il vicepresidente e l'abruzzese Giovanni Legnini. E siamo al quotidiano. L'unità, missione possibile dalle amministrative al referendum. Renzi lancia 5 mesi di mobilitazione straordinaria del PD. Bacchetti estivi, feste dell'unità, iniziative piazza per piazza. Poi il congresso anticipato. L'unità è l'ultimo giornale della nostra corposa rassegna stampa. Per quanto riguarda i quotidiani nazionali oggi in edicola. A proposito di quotidiani in edicola, andiamo a vedere anche qualche titolo che riguarda lo sport. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che parla ancora del grande successo, del miracolo di Ranieri, che ha vinto lo scudetto nella Premier League con il Leicester. Il mio Leicester d'Italia. Vedete questo articolo, questa lunga intervista con Claudio Ranieri. E poi a qualche altra notizia. Prandelli è tentato dal ritorno all'Atalanta. L'ex tecnico della Fiorentina e anche della nazionale potrebbe ripartire proprio dalla formazione nera-azzurra. E poi il tasse non lo assolve. Platini è espulso dal calcio. Lascia la presidenza UEFA. E poi ci sono i consigliati articoli che riguardano il Giro d'Italia. Si riparte dalla Calabria. Moser ha un'idea rosa. Questo per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport. Vediamo il Corriere dello Sport. Scatto Juve. C'è Sanchez. Si parla di mercato in questo caso. Poi Napoli su Herrera. Roma svolta Witzel. Inter ecco Twain. E poi in basso io Ranieri vi dico credete in voi stessi. E poi c'è l'intervista all'amministratore delegato del Sassuolo. Vi racconto la favola del piccolo Sassuolo. Sassuolo che potrebbe approdare in Europa spese del Milan. Siamo a tutto sport per chiudere con i tre quotidiani nazionali sportivi. Oggi in edicola. Niente feste. Siamo alla Juve. Allegri furioso per il K.O. di Verona. Vuole evitare ulteriori cali di tensione. E poi Pjanic vale per tre. Ecco perché piace tanto. Giocatore della Roma molto richiesto. Poi lotta salvezza in Serie A che rissa tra Palermo e Carpi. Palermo che sembrava qualche settimana fa condannato alla retrocessione. Ora ad un passo dalla salvezza. Lasciamo dunque i quotidiani sportivi. Possiamo tornare a vedere insieme i giornali di casa nostra. iniziando dal centro per andare a vedere le prime pagine che riguardano la cronaca d'Abruzzo. Tra l'altro vi anticipo che oggi non ci sarà il consueto appuntamento con il medio perché il nostro Giovanni De Palma è influenzato. Lo ritroveremo probabilmente, speriamo già da domani. Allora siamo alle pagine d'Abruzzo del quotidiano Il Centro. La pressione fiscale, le tasse si divorano, sette mesi di guadagni ma i più vessati sono i sulmonesi che devono lavorare fino alla fine di agosto all'Aquila e all'Anciano. Va un po' meglio questa l'indagine della CNA. I dati presentati ieri nel corso di una conferenza stampa. Andiamo a vedere il servizio che è stato curato dalla nostra Francesca Romana Testi. Comunica e vai, fisco che trovi e questo è il resoconto dell'indagine portata avanti dall'Osservatorio Nazionale della CNA che ha concentrato la sua attenzione sulla pressione fiscale nei confronti delle microimprese abruzzesi scoprendo con una classifica poco confortante che a pagare di più sono le città di L'Aquila, Spoltore e Lanciano ma le altre città non se la cavano meglio. Abbiamo cercato di tramutare questo 60% nei giorni che servono all'imprenditore di lavoro per produrre il reddito che serve per pagare le tasse e lo abbiamo chiamato Tax Free Day cioè giorno della liberazione dalle tasse. In questo caso arriviamo in media verso metà agosto e alcuni comuni dell'Abruzzo arrivano a fine agosto cioè si lavora fino a fine agosto solo per pagare le tasse. Secondo i dati un imprenditore impiega 214 giorni lavorativi per guadagnare la somma necessaria a pagare le tasse. Per fare cassa invece ne restano solo 151 nell'arco di un anno. Tra le voci che compongono il paniere ci sono IMU, Tasi, Tari, IRAP, IVS, IRPEF, addizionali regionali e comunali. Mediamente la pressione fiscale copre il 58,4% del reddito totale. L'appello di CNA è rivolto verso il governo nazionale. Quello che incide sulle tasse locali sono i valori catastali che le varie amministrazioni applicano sugli immobili e sulle varie zone. Sono di una differenza completamente diversa da un comune limitrofo all'altro e questo non deve essere, deve essere regolamentato. Andiamo avanti ancora dalle pagine della cronaca d'Abruzzo del centro. Immigrazione in dieci anni, popolazione triplicata e poi agroalimentare. Cibus, sapori d'Abruzzo in fiera a Parma, presenti 33 ditte abruzzesi. E poi in basso a fondo pagina, povertà educativa, Abruzzo al quarto posto. Andiamo avanti, c'è l'inserto che riguarda il lavoro. Siamo già alle pagine della cronaca di Pescara. Allora passiamo al messaggero per vedere insieme i titoli che riguardano la cronaca regionale d'Abruzzo. Poi ovviamente inizieremo a vedere le pagine provinciali. Leggeremo anche gli articoli che riguardano, nell'ultima parte parleremo anche di sport, ovviamente di come Pescara e Lanciano in particolare si stanno preparando agli ultimi 180 minuti di campionato. Un campionato che proprio in queste ultime due giornate dovrà emettere i verdetti che ovviamente saranno a questo punto inappellabili. Allora vediamo la prima pagina del messaggero d'Abruzzo. Eccola qui, Ater, stipendi d'oro verso il processo. Chieti, la procura chiude le indagini per i tre dirigenti. Monumenti gonfiati, spese allegre e indennità nascoste mentre le case cadevano a pezzi. E poi in carico alla figlia, sequestrati beni a dirigente pubblico. L'Aquila ha bloccati 260 mila euro ad un funzionario indagato del Comune. Più tardi vedremo anche il servizio su questa vicenda. E poi la foto che riguarda il calcio, vi dicevo, si pensa alle ultime due giornate di campionato. Il Pescara viaggia a ritmo di Serie A. Tra l'altro ieri sera si è giocato il posticipo del campionato di Serie B con la vittoria dello Spezia sul Brescia per 2-1. Vediamo altri titoli. Immigrati, la caserma Battisti in ballo come hub. Siamo all'Aquila e poi andiamo avanti. Vediamo la seconda pagina di cronaca regionale per quanto riguarda il messaggero. Si parla di tasse sul Mona, Roseto e Montesilvano sommerse dalle tasse. Abbiamo visto il servizio di Francesca Romana Testi con il report CNA sul peso della fiscalità per i piccoli imprenditori. E poi trasporti, servizi minimi, sciopero dei bus rinviato e poi bandiere blu, il caso della costa Teramana a Singhiozzo. Allora possiamo tornare sul quotidiano Il Centro per riprendere e ripartire da Pescara con le pagine della cronaca provinciale. La sanità pubblica in ginocchio. Farmaco salva vita negato a donna malata di cancro. La ASL dice stop medicina e non residenti. Una pescarese dopo le analisi e prima della chemio ritira il farmaco al paese e va in ospedale a Chieti con la borsa frigo. E poi il cuore fa i capricci. Ripassi tra cinque mesi per il test da sforzo, il caso delle liste di attesa. Andiamo avanti. Il personaggio, parliamo sempre di Pescara. Piazza Santa Caterina si sente al sicuro con il vigile Rambo. Spaccio di droga e bivacchi all'interno del parco ma i residenti che si lamentano, il maresciallo dice sono qui per voi, scendete e riappropriatevi di questo posto. E poi bimbi in festa contro il bullismo. I volontari di Telefono Azzurro incontrano le famiglie così si previene il disagio. Andiamo ancora avanti. In auto a passo di Lumaca. Parliamo del problema cantieri in città. I lavori che bloccano la città si legge in questo titolo. Traffico paralizzato in via del circuito ma l'intervento alle fogne è quasi finito. Ruspe in via Prati fino al 21 maggio. Un chilometro di fila fra Pescara e Villa Raspa. E poi i runners si scusano per la riviera chiusa. Domenica ci sarà la mezza maratona fra stadio e lungomare. L'associazione podistica invita la città alla festa. Ci sarà la half marathon tra l'altro organizzata dalla runners Pescara e anche dalla WISP Abruzzo e Molise. E parleremo di questo evento nelle nostre trasmissioni proprio dedicate alla WISP. E ora cronaca giudiziaria sempre dalle pagine della cronaca di Pescara del centro. Maravalle ha nascosto la malattia per l'adozione. Il bambino russo ucciso a 5 anni. Le motivazioni della condanna per falso. Il giudice, anche la moglie e i medici hanno celato i suoi disturbi mentali. Ricorderete questa tragedia di questo bambino morto all'età di 5 anni. Andiamo ancora avanti. Le reliquie di Papa Voitila alla Madonna dei Sette Dolori. Da domani la Basilica di Pescaracolli ospiterà lo zucchetto e un'ampolla con il sangue del Santo. E domenica la celebrazione coinciderà con la festa della Madonna della Pioggia. Dunque ci saranno queste reliquie di Papa Voitila che potranno essere ammirate dai fedeli proprio nella chiesa della Madonna dei Sette Dolori. Andiamo ancora avanti. I progetti di Rossetti, Aterno, Mantone e De Cecco. Le scuole festeggiano l'Europa. Immostra i lavori degli alunni con incontri e confronti all'Aurum di Pescara. E poi settimana di incontri dedicati al verde della città. Si parla di Pineta d'Avalos e dei Pini. Di Pescara questa iniziativa dell'amministrazione comunale. E poi l'incontro a scuola. Mandragora in lacrime. Ho realizzato il sogno. Grazie ai miei genitori. Al volta il calciatore del Pescara è partito da Scampia. E agli studenti raccomanda non dovete mollare mai. Noi ci fermiamo per qualche attimo. Poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. E vedremo proprio il servizio con l'incontro di Mandragora con gli studenti dell'Istituto Volta. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6. Dunque andiamo a vedere, come vi avevo promesso, il servizio sull'incontro del giocatore del Pescara, Rolando Mandragora, ieri con gli studenti dell'Istituto Volta. Rolando Mandragora oggi all'Istituto Volta per incontrare gli studenti, per parlare della sua esperienza di calciatore. Hai voluto fortemente partecipare a questo evento nonostante l'infortunio. Sì, fa sempre piacere partecipare ad eventi del genere dove vedi coinvolti tantissimi ragazzi, chi della mia età e chi invece è un pochino più piccolo. Fa piacere perché comunque loro aspettano magari tanto questo momento, quindi fa piacere accontentarli e sono il primo ad essere contento ad incontrare tutti questi ragazzi. Come procede la rieducazione, il recupero dall'infortunio? La rieducazione procede benissimo, mercoledì tolgo i punti e spero di poter tornare sul campo quanto prima perché mi manca già tantissimo. Ieri c'è stata questa vittoria importantissima con il Lanciano, che pescara hai visto dalla tribuna? Ieri dalla tribuna ho visto un gran pescara, come sempre d'altronde. Abbiamo fatto una gara strepitosa, come ora non devo stare qui a dirlo, sia sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto della concentrazione e dell'approccio alla gara e abbiamo portato a casa i tre punti. Ora ci aspettano altri due finali e poi alla fine tiriamo le somme e speriamo di iniziare al meglio i play-off. Mandragora non ci sarà nei play-off, farà un gran tifo però per il pescara, non ci sarà neanche Memuchay, due assenze importanti. Sì, sono due assenze che sicuro i nostri compagni sopperiranno alla grande perché non ci sono titolari veri e propri ma siamo una squadra formata da 30, compresi lo staff, ognuno fa del suo meglio quindi non ci saranno sicuramente problemi. L'ultima Rolando ti aspetta l'Iuventus, ti aspetta l'Ander 21? Sì, spero continuare ad aspettarmi. Auguri di pronta guarigione a Rolando Mandragora. Noi siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara. In alto la cronaca. Francavilla si ribalta col trattore grave, un 68enne. Poi Porticciolo ha assolto l'ingegner De Vito. Francavilla, dieci anni dopo il fermo del cantiere, si chiude il processo al direttore dei lavori sui presunti errori contabili. E poi, no a Montebello, restano in elizza quattro candidati. Questa è la decisione della Commissione elettorale. Parliamo ovviamente delle elezioni, in questo caso a Francavilla, al mare. Poi Cepagatti, scuola a due giorni di prevenzione dentale. Proseguiamo, siamo alla pagina di Montesilvano del Centro. Città in lutto e morto Carbani, albergatore politico di lungo corso. Grande cordoglio per l'improvvisa scomparsa dell'imprenditore che aprì nel 69 l'hotel Piccolo Mondo. Oggi si terranno i funerali. Poi convenzione con il Tribunale, ubriachi alla guida in 51 al lavoro gratis per il Comune. Ancora Montesilvano, incantano i baby musicisti della Troiano. Conclusione in Piazza Diaz per il progetto di musica che ha coinvolto 13 classi della scuola primaria. Andiamo ancora avanti. Ancora cronaca dall'area metropolitana di Pescara. In alto, Spoltore, il milanista Mauri, residente a Spoltore. Vedete il giocatore rossonero. Ieri è stato ospite e ha visitato proprio il municipio con l'incontro con i vertici a Palazzo di Città. Mauri che aveva giocato titolare la gara dei rossoneri a Bologna con la vittoria per 1-0 della squadra di Brocchi. Poi ancora Spoltore, Gran Festa in Piazza per lo Spoltore Calcio promosso in promozione. Poi Montesilvano, ubriaca al bar, aggrediscono i carabinieri. Andiamo a fondo pagina. Moda e bellezza, defile all'arca, vila raspa sotto i riflettori, nuovi capi intimo e pigiami. Con le miss in passerella e poi ancora da Montesilvano, mensa dei poveri in affitto di Stefano, dice soldi spesi male. Proseguiamo. Siamo alla pagina di Penne, Popoli e dell'Alta Val Pescara. Partiamo con la notizia di apertura. Con le Corvino rinuncia alle quote di Vestina Gassi. Il Consiglio oggi formalizzerà i nuovi passaggi per la cessione del suo 11%. Anche il Comune di Penne sta per vendere la sua parte alla società Levigas S.P.A. e poi Popoli. Verso il voto, Lattanzio, uno dei candidati, dice trasparenza e rilancio delle sorgenti. E poi Penne torna a celebrare il patrono, festa di San Massimo. Un bel successo. Vi avevamo proposto nei giorni scorsi anche un servizio sulla festa di San Massimo a Penne. Ancora Penne dove riapre, come vedete da questo articolo, l'archivio storico. E poi a fondo pagina l'avvertenza di Scafa, ex Italcementi. i lavoratori incontrano il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Siamo alla cronaca di Chieti del Quotidiano Il Centro. La delibera che scotta il Direttore Generale cancella 400 lauree, ma il Tar ha già detto no. Oggi del vecchio chiede al Senato di retrocedere i dottori in scienze sociali, ma il caso fotocopia dei fisioterapisti finì con una stangata sul dannunzio. E poi vicenda ex Carichieti. Il giudice chiede nuovi documenti. Andiamo in basso. Questo titolo che riguarda la cronaca a San Salvo. Tamponamento a catena per un cinghiale, quattro auto danneggiate, l'animale ucciso, illesi due bambini spavento per una donna incinta. Siamo alla cronaca di Teramo del Quotidiano Il Centro. Samira, il padre, voleva togliermi le bambine. Ho dovuto ucciderle la mamma di Martinsicuro alla sbarra. Il racconto dei testimoni gridava se non posso averle io non le avrà nemmeno lui. Il delitto è avvenuto il giorno dopo aver trovato ospitalità in una casa famiglia. Oggi ci sarà la nuova udienza. Poi a Teramo, avvocati in lutto per la scomparsa di Pietro Sortino. Vediamo in basso una notizia di cronaca giudiziaria. Schiaffi nel tribunale dopo l'assoluzione. Donna aggredisce l'uomo che aveva denunciato per molestie ma giudicato, non colpevole. E siamo alla pagina dell'Aquila del Quotidiano Il Centro. Cantieri post-sisma favorì la figlia. Ingegnere finisce nei guai. Indagato il funzionario comunale Corridori in un appalto da 9 milioni avrebbe ottenuto per lei incarico da 264 mila euro. Su questa vicenda possiamo andare a vedere il servizio realizzato dai colleghi della nostra redazione dell'Aquila. Truffa i danni dello Stato e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Sono i capi di imputazione con cui la Guardia di Finanza di L'Aquila ha sequestrato preventivamente per poi procedere alla confisca per equivalente. 264 mila euro nei confronti di due dei tre indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Aquilana su lavori di ricostruzione di un condominio danneggiato dal terremoto. L'inchiesta ruota attorno ad un ingegnere aquilano dirigente del comune e amministratore del condominio interessato che avrebbe pilotato l'assegnazione dei lavori da circa 9 milioni di euro ad un'impresa del Trevigiano facendo nominare la figlia progettista e direttore dei lavori. Dalle intercettazioni telefoniche dai riscontri documentali acquisiti dalle fiamme gialle sarebbero chiari i comportamenti illeciti dell'ingegnere che in quel momento agiva come pubblico funzionario comportamenti che avrebbero fruttato 214 mila euro in compensi professionali alla figlia neolareata e senza alcuna esperienza nel settore e 50 mila euro attraverso uno scontro extra contratto concesso dalla ditta giudicataria dei lavori quale contropartita per l'assegnazione dell'appalto per la costruzione di alcune villette a schiera nella frazione aquilana di Pianola di proprietà di una società immobiliare riconducibile alla figlia del dirigente comunale. Il servizio non era dei colleghi dell'Aquila ma di Alfredo Primante vediamo ancora altre notizie dal centro per quanto riguarda l'Aquila e la zona della Marsi che in questo caso tra sacco scatta l'obbligo di dimora ragazzina con la droga la madre fa bloccare il pusher poi la tragedia ieri al centro commerciale l'Aquilone dell'Aquila muore di infarto una donna di 61 anni originaria e residente a donna e poi in basso Caro Cialente esiste il diritto di sciopero galante della strada Parchi risponde al sindaco dell'Aquila sulla questione dello sciopero dei giorni scorsi da parte dei dipendenti della società dell'autostrada dei parchi allora siamo arrivati alle pagine dello sport dal centro dobbiamo andare a vedere però il messaggero e poi il quotidiano la città ripartiamo dal messaggero cronaca di Pescara decibella le stelle in via Battisti i residenti misurano il volume della movida impossibile dormire anche con la presenza dei vigili urbani e poi in basso se la barca vale più degli edifici storici demoliti si parla della barca che si trova il galeone di Eriberto sulla rivera di Pescara liceo di Biase dice quanta indifferenza quando buttavano giù la ex centrale dell'atto del latte perdone Blasioli presidente del consiglio comunale dice vincolo in consiglio andiamo ancora avanti vediamo altri titoli che riguardano Pescara dalle pagine del messaggero sette patenti ritirate dalla polizia lavori sociali al posto del carcere e poi botte ai carabinieri davanti al pub doppio arresto a Montesilvano andiamo avanti Pineta da salvare esperti a confronto all'aurum sette giorni di convegni sulla riviera d'Annunziana e poi il Tar riapre il sanzificio il sindaco dice controlliamo e poi ripascimento in tempi stretti riviera sud in emergenza in basso ancora due notizie Alessandrina e Roma stricione per impastato e poi il premio Ferrante vinto da Federottica di Milano proseguiamo siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara studenti pescaresi ambasciatori europei della lettura l'istituto comprensivo 8 capofila del progetto e poi Cepagatti la Croce Rossa in Grecia e Macedonia con un container di aiuti per i profughi e poi vedete c'è anche l'articolo che riguarda l'incontro di Mandragora con gli studenti del Volta vi abbiamo fatto vedere il servizio pochi minuti fa e poi l'hotel Esplanade palcoscenico per una sera commedia in scena domenica prossima in sette camere dove si confondono attori pubblico e dipendenti in basso siamo a Montesilvano Carbani stroncato da infarto politica in lutto e poi Tricomedit permessi in regola il comune revoca la chiusura e siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero post sisma maxi sequestro ad un funzionario comunale abbiamo visto poco fa il servizio di Alfredo Primante poi il processo messo versamento all'iva assolto titolare di una ditta di traslochi e poi le stragi mafiose e violenza di genere educare alla legalità in basso ma allora al centro commerciale muore una donna di 65 anni e poi tribunale in due all'entrata con un coltello la doppia singolare scoperta grazie al metal detector in dotazione alle guardie giurate siamo la pagina la seconda pagina dell'Aquila restyling della villa ascensore dal terminal a via dei giardini firmata l'intesa per aprire il palazzo dell'emiciclo e poi a piazza d'armi le tariffe non sono alte la polemica sul costo dei parcheggi poi vediamo a centro pagina scuola internazionale pronto il raddoppio poi nasce una nuova iniziativa con una nuova iniziativa il notiziario della ricostruzione in basso sul rugby in caduta si accende il dibattito ora serve un terzo tempo dirigenziale l'Aquila rugby retrocessa dal campionato di eccellenza al torneo di Serie A e poi ai map di Bazzano apre un centro di aggregazione siamo alla pagina di Avezzano sul Mona acqua non pagata il cam all'attacco è sempre Avezzano Magrebino arrestato due volte in due giorni a Dortona dei Marsi un incidente stradale cade dalla moto grave un centauro e poi siamo a Sulmona perché nei prossimi giorni arriva il Giro d'Italia la Carovana Rosa nella città Peligna ed è subito festa è sempre a Sulmona minaccia i candidati Dimash va in procura e poi due notizie che arrivano da Avezzano la prima ancora un incidente stradale in via Corradini donna investita in bicicletta e poi spaccia a minore scatta misura cautelare siamo alla pagina di Chieti del messaggero Ater per gli stipendi d'oro in tre rischiano il processo per quanto riguarda proprio la gestione dell'istituto delle case popolari e poi ex Carichieti il tribunale vuole altri documenti si stacca a cornicione dal balcone un ferito a Chieti nella zona del Tricalle poi in basso Marrucino un successo la rassegna dialettale per quanto riguarda la politica il bilancio comune in ritardo l'opposizione dice si nomini un commissario siamo alla pagina di Lanciano Vasto Ortona Alimonti Casillo compra il pezzo pregiato l'industriale pugliese si aggiudica per 16 milioni il complesso di Roma l'operazione fa parte del concordato preventivo San Salvo Cinghiale attraversa la Trignina quattro auto coinvolte Lanciano Assemblea della Sasi basterebbe nuovo presidente e poi ancora Lanciano banda dei ladri acrobati scatta la prima condanna politica Forza Italia tabula rasa sul passato presenti vertici abruzzesi del partito che appoggia il candidato d'amico infine una notizia che riguarda Vasto i trasporti Cerella perché si va verso lo sciopero e proseguiamo siamo alla pagina di Teramo del messaggero corsa al telecomando per entrare in via Capuani una settimana di tempo per ritirare all'URP del comune il congegno elettronico e poi i primi defibrillatori per gli impianti sportivi la consegna ufficiale ieri importante nell'ambito della prevenzione e poi da Brucchi un patto per arrivare a fine legislatura a giorni previsto il rimpasto e dunque ci potrebbero essere delle novità e poi a fondo pagina Ranalli Teramo Ambiente se non si firma la solidarietà in 36 fuori subito siamo alla pagina di Giulianova Roseto della Val Vibrata il crollo di Samira in aula durante il racconto dell'orrore la madre di Martinsicuro sotto processo in Inghilterra non regge alla ricostruzione dell'uccisione delle figliolette e poi Pet Therapy in spiaggia Labranella accusa siamo a Giulianova Colonnella una donna sfiderà Pollastrelli parliamo delle amministrative nel piccolo centro della Val Vibrata e poi ad Alba Adriatica tappe forzate per il ponte di legno in basso Giulianova corso e lungomare nel mirino dei vandali proteste dei residenti e poi a Roseto degli Abruzzi pescatori e diportisti proposta di Girolamo siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare però a vedere insieme invece le pagine del quotidiano la città di Teramo per andare per vedere dunque quali sono gli argomenti trattati proprio dal quotidiano che prende in esame soprattutto le vicende di Teramo e Teramo provincia vediamo la prima pagina del quotidiano la città eccola qui Teramo verso la giunta alla Dodo ipotesi esecutiva a sei con un assessore in meno per futuro in ed ncd ma scatta la sindrome del diciassettesimo questo è il titolo principale andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano la città prima pagina dedicata alla cronaca regionale lavori alla figlia indagato un funzionario all'Aquila abbiamo visto poco fa il servizio e poi cronaca chieti giovane pestato e caccia ai responsabili in basso flussi migratori in dieci anni gli immigrati presenti nella nostra regione sono triplicati proseguiamo la crisi in comune siamo a Teramo Brucchi verso la giunta alla Dodo Maniera si fa strada l'ipotesi dell'esecutivo a sei con futuro in ed ncd che potrebbero rinunciare ad un assessore via Capuani il comune allestisce il pasticcio sistemati vasi e furiere per delimitare gli appena 15 posti riservati a 400 aventi diritto cronaca si taglia il polso con un pugno ad una vecchia vetrina scusate vertezza teleponte oggi il nodo degli stipendi la tv teramana resta in stato di agitazione in attesa di un segnale dall'editore prima dell'incontro in provincia e poi vediamo in basso si parla di genetica l'OI dell'università di Teramo in campo per clonare il rinoceronte bianco proseguiamo lutto nel mondo dell'avvocatura teramana è scomparso Pietro Sortino stimato professionista oggi la camera ardente e domani i funerali in cattedrale e poi referendum Brucchi firma il referendum anti italicum andiamo ancora avanti commosso addio al preside di Gian Natale siamo sempre a Teramo studenti e amici affollano la madonna delle grazie per i funerali del dirigente scolastico e storico cittadino e poi salute quattro defibrillatori negli impianti sportivi donati dal tribunale del malato altri dieci in arrivo da parte della fondazione andiamo ancora avanti la Cona chiede un parco alla Necropoli grande successo per il Green Day a Ponte Messato i residenti si aggregano ai ragazzi delle bimbi in bici e poi la cronaca in basso motociclista ferito da un'auto in retromarcia nello svincolo dell'A24 a Valvomano andiamo ancora avanti pagina della provincia isolati dal mondo e abbandonati dal comune famiglia di morge di campi aspetta da mesi i lavori di manutenzione sulla strada comunale franata proseguiamo il duplice infanticidio il mio compagno voleva togliermi le bambine si è aperto in Inghilterra il processo per Samira Lupidi i dipendenti della casa famiglia raccontano il tragico ritrovamento ancora avanti a Giulianovo Mociano si parla dei primi 40 anni del Golden Beach e poi la bandiera blu non sventola più l'assessore Grimi siamo a Giulianova minimizza obiettivo mancato per poco avevamo le carte in regola poi cronaca notte di ordinario teppismo in via Nazario Sauro ancora avanti il caso di Atri nessuna colpa per il bimbo morto dopo il parto la procura di Teramo chiede l'archiviazione per il ginecologo di Atri finito nel registro degli indagati Pineto il centro di urno cresce grazie alla fondazione Tercas e poi ancora Atri anche Astolfi firma la proposta per legittima difesa Astolfi il primo cittadino di Atri e siamo alla pagina di Roseto Pineto Atisilvi si parla degli ultimi passi verso l'approvazione del piano regolatore siamo a Silvi il partito democratico fa sentire la sua voce vorrebbe un passaggio rapido dello strumento urbanistico e poi in basso il circolo nautico grande protagonista degli eventi estivi Silva Roli cultura d'annunzio testimonial da Abruzzo di Carlo Attorino con le nilo suo libro sui luoghi del Vate il binomio è ancora forte arriviamo alla pagina che riguarda Teramo Comics finale col botto per la fiera del fumetto all'università di Teramo vedete le immagini e poi siamo allo sport in questo caso si parla del Teramo settimana decisiva per il futuro di Vivarini nei prossimi giorni previsto un incontro fra il tecnico e il patron Campitelli che intanto ribadisce è giusto che voglia prima vedere il progetto futuro e con le pagine dello sport del quotidiano la città andiamo a vedere anche quelle del quotidiano il centro e poi del messaggero partiamo dal centro la padula Leicester pronto a sborsare 7 milioni e mezzo domani i dirigenti inglesi si riuniranno per decidere sull'offerta al Delfino il Genoa resta in pole position per l'attaccante Biancazzurro ma spunta anche la Lazio Pescara che pensa però alla gara di Modena e a tal proposito i tifosi in massa per invadere la città emiliana entusiasmo alle stelle per il terzo posto fervono i preparativi della trasferta ma sul momento della Pescara noi andiamo ad ascoltare uno dei protagonisti del derby con il Lanciano Francesco Zampano sono molto contento del mio primo gol stagionale perché comunque lo cercavo da tanto ero un anno e mezzo e comunque magari ci andavo vicino e oggi sono riuscito a fare il mio primo gol soprattutto anche i miei compagni abbiamo fatto una grande partita e sono molto contento mi sono levata la maglia più che altro ero molto contento non ci ho pensato prenderò la multa che mi ha fatto già il mister oggi è stato davvero bello comunque c'erano non so 14.000 persone quindi non mi ricordo adesso però è stato davvero bello anche perché aver giunto una vittoria importante e grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno dato una mano eravamo partiti molto bene i primi 15 minuti aggressivi volevamo far male loro sulle fasce ci stavamo riuscendo però poi dopo il gol di Caprali non so cosa ci sia successo ci siamo abbassati e abbiamo diciamo abbiamo accusato il colpo diciamo noi in questo momento guardiamo la realtà dei fatti abbiamo 39 punti e cerchiamo di guardare avanti e fare più punti possibili in questo momento poi alla fine tireremo le somme Luca sabato ci sarà questa gara con la Ternano una gara da vincere a tutti i costi sarà importante il sostegno del pubblico quel pubblico che oggi a fine partita vi ha chiamato sotto la curva e vi ha applaudito sì sì i nostri tifosi sono stati strepitosi perché sono venuti in tanti per seguire questa questa bella partita e adesso niente prepariamo la nostra partita per sabato cercando di di fare i tre punti a tutti i costi abbiamo ascoltato come avete visto anche sulla sponda rossonera Luca Di Matteo che ovviamente volge lo sguardo sulla gara di sabato prossimo al biondi con la Ternana ma la Virtus Lanciano è in ansia per il ricorso oggi la Corte d'Appello federale decide sulla eventuale riduzione della penalizzazione la speranza è di riavere almeno un punto un punto che potrebbe pesare poi sulla classifica finale in questo caso potrebbe pesare positivamente dunque l'auspicio in casa rossonera è che possa esserci la restituzione di questo punto andiamo ancora avanti si parla di calcio dilettantistico in questo caso Penne si realizza il sogno del ritorno in eccellenza lo storico club Vestino ha preceduto di un solo punto l'ottimo passo codone dunque una sorta di derby grande impresa di Ammazzalorso che ha portato il Pineto agli spareggi e poi vediamo serie D Avezzano oggi Paris svela i piani del futuro Chieti aspetta il tecnico Marino ad Avezzano nei giorni scorsi dopo la partita dopo l'ultima partita di campionato con la Re Canatese erano arrivate anche le dimissioni del tecnico Lucarelli andiamo ancora avanti basket serie A2 parliamo del Roseto parla Brian in questo caso un'impresa annullare due match point si parla della sfida playoff con il Ferentino domani ci sarà lo scontro finale in gara 5 a Ferentino il play dice abbiamo tolto certezze agli avversari ancora basket playoff di serie B carica Amatori sabato gara 1 a Sansevero Amatori che ha eliminato nel primo turno dei playoff il Campli e poi vediamo ancora notizie in questo caso il calcio a 5 gli annascoli calcio a 5 gestito in mala fede le accuse del presidente del Pescara ai vertici dunque della federazione intanto l'acqua e sapone giovedì in gara 1 affronta l'asti e noi lasciamo le pagine dello sport del centro per andare a vedere insieme quelle del messaggero si riparte ovviamente dalla prima pagina con il Pescara Pescara ritmo da serie A la squadra di Oddo ha ritrovato a pieno le qualità del gioco ma i numeri più importanti vengono dalla tenuta difensiva nelle ultime due gare Pescara non ha incassato neanche una rete contro Modena e Latina saranno due gare molto insidiose ma adesso i biancazzurri sono favoriti per il terzo posto e poi si parla di mercato Napoli pressa per la Padula ma l'offerta non convince e poi il prossimo turno a Modena si rivede Campagnaro questo l'interrogativo e l'argentino potrebbe di nuovo tornare in campo proprio nella gara del Braglia anche perché bisognerà tenere presente che nel Pescara in difesa c'è la diffida di Fornasier che potrebbe dunque indurre il tecnico a questo avvicendamento proprio per evitare un eventuale cartellino giallo per Fornasier e poi si parla di calcio dilettanti a fondo pagina Pineto Paterno la finale lascia ancora Beleni vediamo di cosa si tratta Iodice Iodice va giù duro risultato falsato gol irregolare a Mazzalorso aspetta di conoscere invece il prossimo rivale Fabio Iodice tecnico del Paterna a Mazzalorso del Pineto andiamo ancora avanti Lanciano sei punti per sperare i rossoneri non sono ancora più padroni del proprio destino devono però innanzitutto battere Ternana e Livorno e sperare che le dirette rivali non facciano il pieno e un aiuto potrebbe arrivare a Lanciano proprio dal Pescara che sabato affronta il Modena e poi si parla di Lega Pro qui nell'articolo di Spalla l'Aquila verso i play-out c'è il Rimini nel Mirino tra Teramo e Vivarini invece c'è il nodo dei programmi tornando a Lanciano a fondo pagina parla il tecnico Maragliulo la squadra deve rialzarsi subito e dunque bisognerà battere sabato prossimo al Biondi la Ternana vediamo nell'altra pagina dello sport del messaggero in alto calcio a 5 l'acqua e sapone affila le armi per la semifinale con l'Asti e poi il basket al Roseto serve un'altra impresa domani gara 5 con il Ferentino serie B Salvemini l'amatori non teme nessuno dopo aver eliminato Camplin semifinale ora sfida Sansevero e poi volley di serie A2 il lettone Giannis Peda primo colpo della SIECO Ortona e noi siamo giunti al termine dunque con le pagine dello sport del messaggero dell'appuntamento odierno con Martino 6 grazie come sempre per averci seguito vi ricordo il prossimo appuntamento informativo con la prima edizione del TG6 come sempre oggi alle ore 14 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito